Juve non brillante ma totalmente efficace, archiviata anche la pratica è la sverona cioè ragazzi e ben tornando in questo nuovissimo video nel quale voglio parlarvi un po' della partita che ha fatto esprimere molti volti nuovi nella Juventus però che ne farò vi invito a lasciare un mi piace e un commento poi vi consiglio di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, link come sempre in descrizione comunque fin dall'inizio si capisce che questa per la Juve non sarà una partita in cui si giocherà benissimo e si esprimerà il calcio solito di Sarri e soprattutto si capisce che non sarà una partita semplice come si poteva magari pronosticare alla vigilia anche se, attenzione, il Verona è una squadra che ha dato molti problemi al Bologna all'inizio ha strappato anche un punto e nell'ultima giornata comunque ha dato problemi anche al Milan quindi non è una formazione da sottopautare e la Juve lo capirà benissimo, ci passerà molto tempo a riflettere sul gol di Miguel Veloso e l'azione è straordinaria perché ci sono 20 secondi di altissimo livello e di altissima intensità intorno al ventesimo, anzi al ridosso del ventesimo minuto c'è un rigore concesso dall'arbitro per fallo di Demiral netto ragazzi non capisco onestamente cosa possa protestare la Juventus rigore netto così come è netto quello concesso e trasformato da Ronaldo nel secondo tempo comunque, l'Elas calcia il penalty, prende il pallone, il pallone viene quindi ribattuto dal legno calcia di prima Lasovic che nel frattempo si era avventato sul pallone dal limite dell'area e prende la traversa, ovviamente anche la traversa respinge la sfera che quindi viene ripresa dall'Elas Verona che la gioca cross in mezzo, pallone che finisce sulla destra cross in mezzo, respinto, riprende ancora il pallone Miguel Veloso che se l'aggiusta e poi calcia di Mancino sotto al 7 gol fantastico che vale l'1-0 per il Verona ma la risposta juventina non si fa tendere ed è affidata ai piedi di Aaron Ramsey che con un destro letale, anche se la deviazione veramente incide riesce a pareggiare i conti il risultato si protrarrà in questo modo, con questo punteggio fino a fine primo tempo in apertura di ripresa c'è il calcio di rigore concesso alla Juventus per me ragazzi è sacrosanto, qualcuno ha protestato, per me anche questo comunque è abbastanza palese e appunto ragazzi comunque viene trasformato Ronaldo con il classico tiro dal dischetto che noi in Italia definiremmo della paura perché? Perché lo tira a centrale e questo rigore rispecchia completamente la partita bianconera non espumeggiante, non alla Sarri ma estremamente efficace Ronaldo non ha badato all'estetica a tirare un rigore bello esteticamente ha badato solo a segnare e in questo intento, in questo obiettivo è riuscito alla perfezione la Juventus quindi dopo lo stop in campionato contro la Fiorentina e dopo la beffa a Madrid contro l'Atletico trova di nuovo la vittoria che potrebbe ridare ulteriore ossigeno alla vecchia signora dopo partite sicuramente non esaltanti in campionato oltre allo stop del Franchi, la prima gara con il Parma con un finale assolutamente da rivedere la gara contro il Napoli che per poco non poteva costare una clamorosa umiliazione in casa alla Juve non tanto per il pareggio contro il Napoli ma per come questo fosse avvenuto e appunto la partita di oggi contro una squadra che sicuramente non è tra le big ma una squadra che ha messo in difficoltà tutte le formazioni che ha incontrato dal Bologna e per ultimo anche il Milan il video finisce qui, vi ringrazio per la visione vi ricordo che potete supportare il canale in quale modo? lasciando un mi piace iscrivendovi a quest'ultimo al canale seguendomi su Instagram e commentando con la vostra opinione riguardo questa partita e il calcio di Sarli che sta proponendo in questo momento alla Juventus ciao a tutti